Un abito bianco da sposa, un vestito da sera, un grembiule delle pulizie. Sono alcuni degli indumenti della mostra come rivestita, allestita in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne nel cortile d'ingresso del palazzo comunale Aretino. Il titolo dell'esposizione prende spunto dalla poesia Cosa indossavo di Mary Simmerling. Gli abiti sono infatti quelli che sono stati indossati dalle donne nel momento in cui hanno subito violenza, con accanto testimonianze delle stesse vittime. La mostra, curata dal centro antiviolenza Pronto Donna con il sostegno del comune di Arezzo, si sviluppa in un percorso narrativo in quattro lingue che resterà aperto fino al prossimo 10 dicembre. Un'esposizione che coinvolge anche i quattro quartieri della giostra del Saracino. L'iniziativa, sottolinea Loretta Gianni di Pronto Donna, nasce per sensibilizzare il pubblico su un tema terribile e sradicare il pregiudizio che la donna avrebbe potuto evitare lo stupro se solo avesse indossato abiti meno provocanti. È dunque uno stimolo a riflettere, identificarsi nelle storie narrate e prendere atto di quanto siano comuni gli abiti che le vittime indossavano.